Da grande voglio fare il cuoco Oddio, questa è una domanda che vorrei farmi tanto tempo fa Non è semplice come domanda Da grande vorrei fare la pensionata Vorrei riuscire a tornare bambino Forse lo chef Già sono grande Dovrei morire e rinascere Direttore d'orchestra Potermi occupare di questioni amministrati Ambientali Mi piacerebbe fare qualche altra cosa nella vita Forse avrò anche tanto tempo Finché c'è vita c'è speranza Mi piacerebbe lasciare un bel po' di cose di me alle generazioni future Un mio ricordo Un po' di cultura e un po' di educazione Non penso che ci sia un limite di tempo al fare qualcosa Poi che sia grande o meno, non lo so Mi piacerebbe lasciare un futuro migliore rispetto alla vita che abbiamo vissuto noi Avendo, tenendo, dando, potendo Non avendo, non dando, non potendo No, non ho mai sentito parlare di testamento solidale E cos'è? Come? Vabbè, testamento è qualcosa che si lascia a qualcuno Che testamento? Solidale non riesco ad immaginare cosa possa essere Solidare? E che si dice? Non ho idea Il testamento solidale lo so che cosa è Sì, non nel dettaglio ma ne ho sentito parlare E uno cede parte delle proprie ricchezze, se uno ne ha, o dei propri beni a persone che non hanno la possibilità di vivere La condivisione di beni dopo la morte Ora che lo so che farei, beh, mi piacerebbe tanto lasciare qualcosa per gli animali soprattutto Beni immateriali forse a un museo Denaro alla ricerca Perché non bisogna lasciare qualcosa di te a qualcuno? Per una famiglia numerosa, non so se lascerebbero testamento Assolutamente farei il testamento solidale Sì, forse no È una bella idea per le future generazioni che verrà una cosa Se avessi la possibilità, sì, lo farei Perché alla fine ho avuto in te ne sa E adesso faccio